Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Io oggi vi parlo a nome della LAV Leganti Vivi Sezione e a nome di altri enti e associazioni animaliste, ma anche a nome di tantissimi cittadini italiani che non vogliono l'uccisione della orsa JJ4. Perché vi sto dando questo update? Perché purtroppo il presidente del Trentino ha emanato una nuova ordinanza in modo da ostacolare quello che ha fatto il TAR fino adesso, che era appunto quello di sospendere l'uccisione dell'orsa. Siamo in tanti che non vogliamo l'uccisione dell'orsa per diversi motivi. Prima di tutto perché al presidente è stata offerta una soluzione alternativa. C'è chi si prenderà l'orsa e l'atterrà in un'area protetta. Quindi uccidere non è la soluzione. Uccidere gli orsi in futuro non sarà la soluzione. Non sarà un bel esempio da dare dell'Italia e del Trentino. Secondo me è un esempio veramente che denota scarsa intelligenza, poca compassione, è un modo molto frettoloso e probabilmente più economico per invece affrontare un problema, un problema molto grave che merita attenzione. Quindi nessuno vuole l'uccisione dell'orsa. Speriamo che il presidente ci ripensi e speriamo che il TAR ci aiuti. Grazie. Grazie. Grazie.